Ah, era davvero da molto tempo che volevamo venire qui, l'estate ormai alle porte e quando pensiamo spiagge caraibiche, acque cristalline, angoli incontaminati di mondo ma a due passi da casa, come poter non pensare subito alla Sardegna? Quello che però in pochi sanno e di cui nessuno parla è che qui in Sardegna, in Italia, c'è da anni la guerra, non lo sapevate? Ma non preoccupatevi, siete assolutamente in buona compagnia, nemmeno noi ne sapevamo nulla fino a quando sotto al video sul caso di Rosignano Solvay, in un commento abbiamo ricevuto questo. Il tema è scottante, perché dal 1956 qui si sperimentano missili e razzi, si inquina e si uccide silenziosamente con l'uranio impoverito, un disastro ambientale paragonabile alla catastrofe di Cernobil, che avviene ancora oggi, tra silenzi, segreti militari, paure ed omertà. Buongiorno e benvenuti in questo secondo episodio qua dalla Sardegna. Sono volato fino a Cagliari e come vi ho raccontato già nel primo episodio sono arrivato fin qui a seguito di un commento che abbiamo ricevuto sotto al video di Rosignano Solvay. Ovviamente se avete perso il primo episodio dalla Sardegna andatelo a recuperare, vi lascio sotto il link nel primo commento e in descrizione. Sono venuto fino a qua per parlare delle servitù militari che da decenni distruggono il territorio della Sardegna. Infatti questo è uno dei punti più martoriati proprio da simulazioni di guerra, sperimentazioni di nuove armi. Nello scorso episodio vi ho mostrato il caso di Quirra e abbiamo fatto un'esplorazione ad una ex base militare in centro a Cagliari. Oggi invece mi sposterò, andrò a parlarvi del caso Teulada, altrettanto grave ma a differenza di Quirra in questa parte qui abbiamo anche delle persone che hanno voluto esporsi e raccontarci un po' quello che sta succedendo e quello che succede ormai da anni e anni, a differenza invece di Quirra dove a quanto pare invece l'omertà regna sovrana. E quindi abbiamo detto che l'Italia è un paese pieno di basi militari in quanto la Nato ha come scopo principale quello di difendere e di mantenere un certo equilibrio all'interno degli Stati membri. Da un anno a questa parte ne abbiamo sentito spesso parlare a seguito dell'inizio della guerra tra Russia ed Ucraina dove ovviamente nessuno dei due fa parte della Nato. L'Italia è un paese pieno di basi militari americane perché nel post guerra gli alleati temevano che l'Italia potesse diventare una buona base anche per i sovietici. Così se da una parte gli americani ci avevano salvato è comunque storia il fatto che l'Italia la seconda guerra mondiale l'aveva persa. Per la Nato era fondamentale che la presenza militare in Italia fosse massiccia. Ma tutte queste parole potrebbero sembrare assolutamente nulle se non accompagnate da qualche fatto. Per farvi capire quanto e come viene devastato il territorio della Sardegna durante queste simulazioni di guerra vi lascio un video. Ora parto da Quartu Sant'Elena dove ci sono qua le meravigliose saline direzione costa ovest Piscinas. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. sempre di più lo stimolo a continuare ad investire tempo e denaro per viaggiare e venire a portarvi a conoscenza di storie come queste e soprattutto se volete segnalarci qualcosa di cui occuparci e magari da condividere con altri video su YouTube scrivetecelo sotto nei commenti oppure vi aspettiamo sulla nostra pagina di Instagram in questa giornata di viaggio qui sono finalmente arrivato dopo tanti chilometri a Teulada Teulada insieme a Quirra è uno dei simboli delle servitù militari così come buona parte della Sardegna e in particolare proprio la parte occidentale della Sardegna è stata per anni anche servitù minerale infatti si è scavato a lungo e per decenni su tutti i monti che circondano le coste della Sardegna lo abbiamo visto anche nel primo video della ex base militare abbandonata a Cagliari dove sono stati fatti in quel caso degli scavi per andare a mettere dei serbatoi di carburante comunque appena avarcato il confine qua del comune di Teulada come potete vedere dietro di me si estende un'immensa zona militare che arriva fino al mare 30 chilometri di spazio militare circa un terzo di tutto il territorio di Teulada è destinato a sperimentazioni militari ora comunque mi dirigo verso Teulada centro dove teoricamente dovrebbe aspettarci questo è per farvi capire il livello qui a Teulada i cartelli sono tutti bucati da armi da fuoco grazie a tutti ebbene sono arrivato fino a Teulada per parlarvi anche qui di quello che succede in questo piccolo paese che nel corso degli anni ha perso molte persone, molti residenti e avrei dovuto portarvi l'intervista di questa persona di perché alla fine questa persona non mi ha dato la possibilità di registrarlo motivo per cui ho preferito non forzare la mano in compenso però ho trovato un'altra persona che vuole comunque rimanere anonima il mio rapporto tra Teulada e il campo militare quindi il polivo a origini lontane nasce anche in amici guanda nasce con una controvendita di terreni controvendita fatta dallo Stato e contanti di privati cittadini che hanno visto in questo un'occasione perché la comunque si scampava di agricoltura di pasturizia e hanno venduto alcuni hanno venduto, altri invece piccoli proprietari, medagli e quant'altro sono stati costretti a lasciare i campi sono stati caricati di forze a loro e loro miseria vera lo Stato che abusa del suo potere per fare sperimentazioni e soprattutto mette nelle condizioni le persone, i normali cittadini di essere comprati un dato molto importante che mi ha detto questa persona durante la nostra chiacchierata proprio in queste zone che vengono martoriate da simulazioni di guerra hanno una sorta di indennizzo quindi un vero e proprio stipendio pagato dallo Stato esentasse e che dà quindi sostentamento nei periodi dell'anno in cui non possono uscire per andare a pesca non siamo dentro la città turistica nonostante siamo nella costa nonostante siamo tra Sant'Antio e Pura perché a noi mancano le strutture recettive e più vada è questo è tutto e niente è tutto e niente con una base militare che occupa 7.000 ettari, 7.000 ettari della pianura più fettica di 7.000 ettari della costa e in tutto questo tu gli aspetti più a dir e parlando con le persone lì mi dicevano che è previsto per questo 2023 una sola nascita a Teolada i dati alquanto interessanti però su Teolada sono che questa città è stata predisposta per accogliere circa 6-7.000 abitanti residenti che c'erano tra gli anni 60 e gli anni 80 ma poi gradualmente hanno iniziato a svuotarsi pensate che solo nel corso di questo anno ci sarà un solo nascituro e che attualmente la scuola elementare ha solamente otto bambini nella prima elementare e questa è una prova evidente di come installazioni militari di questo tipo non vanno a generare benessere come di fatto vuole essere passato come messaggio bensì generano lo spopolamento e il dato ancora più significativo è che fino al 2013 ad esempio se rimaniamo a parlare di pescatori il numero di pescatori ufficiale è sempre stato più o meno costante qua a Teolada in realtà però dal 2013 in poi c'è stato un grosso incremento del numero di pescatori fittizio perché appunto essere pescatori a Teolada significa poter ricevere un indennizzo quindi questo significa che non lavorando lo Stato ci dà comunque uno stipendio e di fatto compra il nostro silenzio La gente ha paura di esprimersi, la gente ha paura di subire in qualche modo rivendicazioni perché sa di essere in porto quindi cosa sta succedendo? Credo stato pagando questi indimizi poco più di 15.000 euro su 15.000 euro a persona si davanti sul silenzio, quello sta succedendo è diventato praticamente un ufficio di collocamento noi non avendo strutture alberghiere, non avendo come avevo prima medi un campane come comunità ma oggi la gente per sopravvivere perché di qualcosa dovrà assurbitare non possiamo neanche non riconoscere a queste persone il diritto di stare a casa loro nella loro terremotica e non doversi fare le banche a 50 anni e migrare un rapporto tossico è un rapporto che avvelena qualsiasi altra luce per sviluppo perché se tu una persona che avantisci 16, 15, 16.000 euro all'anno anche senza andare a pescare un solo giorno praticamente una persona che stimuia a fare un qualcosa in più per se stesso un 50enne aspetta semplicemente lo scorrere del tempo per andare in pensione ma non sono sempre stati tutti zitti in queste zone infatti già nel 2000 a Villapuzzo l'allora sindaco di Villapuzzo Antonio Pili denunciò alcune anomalie che già a quei tempi si riscontravano e che appunto vennero alla cronaca denunciava la grande anomalia dell'aumentare di casi letali di tumori soprattutto in queste zone qui tumori che ovviamente colpiscono non solo i civili che subiscono ovviamente tutte queste fasi sperimentali di guerra in questi territori ma ovviamente anche degli stessi soldati che vivono e sperimentano queste armi e non parliamo di complotto ma parliamo davvero di danni 8.000 ucini con redditori o sparaticoli recuperati in parte e buttati dentro un vecchio deposito di casi che tutto sembrava che un deposito per contenere sostanze pericolose sembrava che un po' di bollaglio beh i tuoi ucini non hanno detto mezzo bar a partire dagli amministratori locali sindaco e testa hanno avuto il terrore di dire qualsiasi cosa per la paura che potessero bloccare le esercitazioni e che loro perdessero vita o l'invenizzo quello è successo a più male quando si parla di molti sospetti veniamo messi a passere perché a noi spetta l'onere di dimostrarlo mentre chi dovrebbe avere carico di questo onere che è lo Stato si rifiuta di attivare il registro tumori si rifiuta di attivare il servizio di monitoraggio ambientale nonostante noi siamo anni, decenni, che li chiudiamo chiunque sia in ospedale chiunque si è passato in ospedale una delle cose che dice quando gli oncologi chiedono di dove proviene il paziente appena si sentono dire più rada così come viene perso a Rocca per altri posti come Porto Scusa solo erano gli interessati in qualche modo dicono eh, che ne spetta l'abbi ci sono intere famiglie che hanno subito deciso un attenzio all'altro non sono persone che hanno lavorato in base e che non sono arrivati all'attenzione o chi si è arrivato è disegnuto pochissimo dopo questa è una delle tantissime cose su cui ci sarebbe da parlare e approfondire qua a Teulada così come a Quirra così come in altri posti d'Italia dove di fatto il potere vince sempre su noi comuni mortali e non dipende dal fatto che al governo ci sia la destra, la sinistra, un nome o un altro in realtà quello che rimane costante è che qua ognuno fa quello che vuole dal punto di vista dello Stato e di fatto qua non ci sono leggi perché ci sono solo abusi di potere quindi è un paese che a differenza di tutti gli altri non solo non si sviluppa ma è prigioniero di se stesso di questa realtà è schiavo degli indenizi il ministro Galletti, il ministro dell'ambiente di Punti Bianco promuove un decreto trova in alza da un giorno all'altro per la mese da un giorno all'altro le soglie di inquinamento ottolevate per legge all'interno dei pulivoli ma non è che le raddoppi le accentuplicate le accentuplicate perché erano troppo grandi e ho visto che i generali potessero finire a processo quindi due elettori hanno detto se proprio dovessero andare a processo meglio mandarli dove l'inquinamento è consentito per legge fino a cento volte e fatto che la legge non è retrativa quindi verranno incriminati per i dati futuri ma quindi lo Stato ha dimostrato che tutto quello che riguarda a noi la nostra sicurezza, la nostra salute si accade altamente ma il bisogno di avere il pane in tavola è molto maggiore della salute tant'è che quando si è provato a aprire una discussione con dei pescatori di questo la risposta è stata fetta, netta di qualcosa si dovrà pure morire ma fino ad allora bisogna mangiare noi siamo una colonia lì in Italia e come tale ci trattano dopo questa sera però me ne vado forse con più dubbi di quando sono arrivato su tutto quello che c'è dietro che è davvero solo una piccola piccolissima parte dell'iceberg che in realtà è sotto il livello del mare cioè come vogliamo definirlo lo Stato italiano in questa circostanza guarda per non beccarmi denuncia lo definirei padre padrone però sei crudello padre padrone però sei crudello come possiamo definirlo uno Stato? che fa questo? un padre io non lo definisco non lo ritengo un padre perché un padre si parte per i figli per tutti i figli per la tutela della loro salute erano preoccupati loro stessi di questo cioè erano preoccupati loro stessi perché loro la ci stanno qui a quella che ha giugato non è uno Stato che fa questo non è uno Stato credimi non è uno Stato non è uno Stato non è uno Stato Grazie a tutti.